La Ragusa giaratana è pericolosa. A sollevare la questione il Presidente del Consiglio Comunale Montano, Giaguinta, che ha presentato una mozione in merito auspicando che possa essere approvata all'unanimità. Successivamente l'atto sarà inviato alle autorità competenti e agli enti preposti in modo che ognuno, per le proprie competenze, possa mettere in campo quanto necessario per superare nel minor tempo possibile tutte le gravissime criticità infrastrutturali attualmente presenti nella strada statale 194. Gli automobilisti che giornalmente percorrono la suddetta strada, oltre ad essere stanchi e rassegnati per tutte le promesse disattese, mettono a ripentaglio la propria vita a causa degli innumerevoli pericoli e criticità infrastrutturali presenti nelle tragitto, protezioni laterali parzialmente assenti, guardrail rotti, muretti franati, segnaletica orizzontale assente, segnaletica verticale vetusta, manto stratale pericoloso, presenza di numerosità, assenza, manutenzione, sistema raccolta e convogliamento, acqua piovana, mancata manutenzione del verde rame di alberi sporgenti sulla carreggiata. Inoltre si chiedono informazioni in merito alla qualità dei dieci ponti e viadotti, in pietre e in cemento armato, dal punto di vista statico, dal punto di vista manutentivo e in caso di evento sismico. Riponiamo la nostra speranza nel prefetto, afferma già Quinta, fiduciosi che il suo autorevole intervento possa determinare la fine di questo gravissimo disagio dell'intera comunità.